Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella Facciamo una foto, facciamo una foto Ma la colpa di chi è? Di quel signore lì Quale? Come si chiama? Cuore, lui, ma è lui? È lui, è lui, lo riconosciuto Lo possiamo arrestare Andiamo ad arrestare Vediamo se riusciamo a beccare Sì, vediamo Cinque minuti alla messa Eccolo, mi sa che è lui È lui È lui, Alessandro Procedi, Alessandro Procedo? Vai Vado E qua Alè, sei da in Cilia Aspetta Chi c'è da dire del Toy Boy? No, 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 no Non me ne parlare neanche Non me ne parlare neanche Quello c'è ma Lei può fare quello che vuole Io non posso Ragazzi, arrivederci Io vado a mangiare Faccio l'Ori dello sbratto Comunque ragazzi La cosa più divertente Questa puntata È stata l'Ori Che durante la pubblicità Continuava a pensare Di essere sull'isola Senza nomination Perché se no L'avrei nominato stasera E alla fine che ha fatto? T'ha mandato pure L'ha nominato Comunque stasera era L'Ori dello sfratto Perché ha sfrattato De casa Marco Cucolo Morello L'Ori dello Doveva fare un po' di copy and colla Dei complimenti anche a Marco L'Ori dello sfratto L'Ori dello sfratto Ecco qua Finita la puntata Ma come torniamo in hotel? Come torniamo in hotel? Lauritta Ma tu Che domande fai? Eri con me Ale? Siamo pronti Ale Meno male Che ha morì beccata La signora Lalla E meno male Che mamma mi ha detto Non andare in macchina Con gli sconosciuti Allora a parte Non è una sconosciuta Perché l'abbiamo conosciuta L'altra volta Ci ha accompagnato Quindi adesso Noi la conosciamo Bravo Eccola qui La signora Laura Che c'ha andata La signora Laura Ciao Dobbiamo Caricare un po' di gente Oggi Sei pronta? Sì Vieni Mi si fa Chi viene con la signora Laura Sei gennina Ciao Avevo acceso i fatti Laura Aiuto Cosa ride E fa Che ride Non ci restano Non ci restano Non ci restano Grazie per la visione Iscriviti al canale E attiva la campanella Per noi è importante Resta sempre aggiornato